ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi farò vedere come completare gli incarichi gli ultimi tre incarichi dell'estate cosmica su fortnite allora il primo incarico si intitola costruisci strutture in the pit infatti la mappa dei pit sarà la mappa dove si dovranno fare questi tre incarichi il codice dell'isola è questo qua che vedete sullo schermo perché ancora non compare tra le modalità ma comparirà più tardi il codice 4 45 90 trattino 44 93 trattino 71 13 e adesso andiamo a vedere come completare l'incarico velocemente eccoci qua saremo spawnati qua voi ovviamente dovrete prendere le armi e poi vi dovete buttare e dovete costruire strutture ovviamente avrete un'infinite un sacco di materiale ovvero 10k quindi 10.000 per ogni materiale e dovete iniziare a costruire tantissimo dovete costruire 500 strutture che sono veramente tante ma è una missione comunque un po noiosa ma molto facile andiamo a vedere come svolge la si intitola elimina giocatori con cinque tipi diversi di arma in una partita questa missione anche questa molto ma molto facile dovete prendere cinque tipi di armi e dovete andare a killare dei giocatori però qua il ticcio ha preso tipo 2 3 scar 2 mitragliette non dovete eliminare con diversi armi con diversi tipi di armi dovete fare cinque kill quindi ad esempio una kill con un pompa una kill con uno scarro una kill con una mitraglietta una kill con un cecchino oppure una kill con un'altra un'altra arma quindi raga questa è anche la seconda missione come completarla andiamo a vedere la terza e ultima missione del dell'incariche dell'estate cosmica la terza missione praticamente uguale la prima soltanto che all'incontrario si intitola distruggi strutture in the pit è molto facile dovete distruggere 500 strutture quindi non dovete costruire ma distruggerle quindi prendete un'arma abbastanza spamona ad esempio la minigun mitragliette e assalti e dovete iniziare a distruggere strutture avversari raga non le vostre e dopo aver finito questa missione dopo averne distrutte 500 avrete completato la missione e vi avranno dato la ricompensa e anche come dire e anche un sacco un sacco di xp ragazzi mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale per altri video tutorial come questo spero di esservi stato utile come aver completato questi incarichi dell'estate cosmica e noi ci vediamo al mio prossimo video ciao a tutti